E' stato veramente qualcosa di strano, di bellissimo, perché hanno risposto le scuole in una maniera veramente incommiabile. Tutte le insegnanti si sono prodigate, i ragazzi hanno prodotto degli elaborati veramente belli, ci sono dei grafici, dei video, temi, insomma hanno fatto praticamente quello che tutti gli altri anni hanno fatto. Non c'è stata la visione da parte del pubblico, perché purtroppo non abbiamo potuto fare la premiazione al solito teatro, però è tutto proceduto in una maniera perfetta, anzi molto, oserei dire quasi, malgrado l'anomalia, in maniera ottimale. Il rapporto con gli insegnanti è sempre più stretto, l'obiettivo è già quello di guardare avanti, di ripartire con il prossimo anno scolastico. Certo, certo, per noi l'importante è sempre quello di, il nostro obiettivo è quello di favorire lo sport dei giovani e dei disabili e l'integrazione dei disabili con i ragazzi normali, ecco. Perché noi abbiamo visto un elaborato veramente che fa venire i brividi di un ragazzo autistico che racconta che lui quando è in classe gli dà fastidio, che i ragazzi lo spingono, gli dà fastidio il rumore, gli dà fastidio il contatto con gli altri ragazzi. Ecco, questo ha dato proprio l'impressione precisa di quello che noi vediamo a scuola quando andiamo a fare il nostro onore per i disabili. Ogni anno a settembre ricordiamo il derby paralimpico, come si procederà quest'anno? Beh, io penso che speriamo che per settembre le cose si siano normalizzate e pertanto riusciremo a farlo nuovamente allo stesso modo. Chiaramente un derby non si può fare per via informatica, certo, comunque riusciremo a farlo lo stesso in qualche modo.